La nostra azienda si occupa di tutte le maggiori manifestazioni nazionali e internazionali come la Coppa del Mondo FIFA e le varie coppe UEFA come la Champions League. Per la realizzazione dei nostri tofei ci basiamo su un lavoro completamente artigianale e made in Italy perché ogni pezzo viene prodotto qui da noi in azienda e ogni pezzo che esce dalla nostra azienda viene controllato nel minimo dettaglio quindi cerchiamo di dare sempre la massima perfezione. Siamo stati contattati dal presidente Roberto Lestani dopo aver realizzato la Coppa del Mondo FIFA ed avere realizzato anche i più importanti trofei UEFA. È stato per noi un motivo di orgoglio poter realizzare un trofeo così importante come quello che è della federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria. La Coppa nasce con l'intento di realizzare uno strumento che è comunemente usato dai pasticceri che è la fusta. All'interno della fusta si è pensato di mettere un mondo per dare proprio l'importanza di questo evento. La Coppa è realizzata su una base in plex su cui altri materiali sono ottone che viene poi argentato e dorato. Ha un peso abbastanza imponente, sono 13,5 kg e un'altezza totale di 87 cm circa. Cercavano un design moderno, qualcosa di esclusivo. Grazie a tutti.